Ciao, questo è un nuovo video che faccio sui film che sono riuscito da poco a recuperare il film che è uscito da poco. La sua data di uscita è stata un mese fa, mi sembra che qua in Italia era uscito il 2 o al massimo 3 di ottobre, qua in Italia che lo si può anche trovare. Ho visto che sono riuscito a guardarlo anche su Amazon Prime, che è il film che hanno fatto su Jigen, che si chiama Jigen Dai Suke, che è proprio lo stesso, il personaggio, l'amico della banda magari di Lupin, che gli hanno fatto proprio il film su di lui. Il film proprio hanno fatto, non è che, non ho inteso magari come cratone animato, ma è proprio un film su di Jigen, che magari la trama magari un po', ho visto che è un po' semplice, è un po' semplice, che a parte che come genere prende Marei un po' il solito Marei azione, avventura, più che altro Marei la trama dei film, c'è proprio Jigen che vuole fare, aggiustare la sua pistola che va in cerca di questa anziana fabbricante d'armi, che questa anziana, questa signora anziana, ed è anche in pensione, che nello stesso momento che lui va da questa persona anziana, si imbatte, magari in questo caso, di questa bambina questa bambina, molta, che riesce a farla Marei, come si dice, a farla Marei, scappare Marei, da questa, magari, come si dice, da questa banda, Marei di trafficanti, Marei di droga, che questa bambina si chiama Otto, questa bambina qua, che più che altro Marei, la trama di questo film è questa qua, che nello stesso momento che Jigen vuole fare aggiustare il suo revolver, revolver, si imbatte Marei in questo, in questo, in questo caso di questa bambina, che si chiama Otto, che muta, che la fa scampare da questa organizzazione, Marei, questa banda, di trafficanti, Marei, di droga, che ho visto che, come è fatto Marei, anche il, come si dice, il film, Marei, ho visto che, come è fatto Marei il film, ci poteva Marei, anche, anche se, anche se, Marei, non ha, sta, questa, magari, grande trama, però, le scene, ho visto che, Marei, le scene, così, sono, come è fatto Marei il film, ci poteva Marei anche stare, dopo, mi sembra che, forse, anche, Marei, il primo, proprio di film, Marei, dedicato, eh, proprio a Gigen, che l'ho voluto, eh, 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 anche di di andarlo morai a curioso di di vederlo che è uscito quest'anno da poco a ottobre e come come film robò che a posto di guardare il solito morai lupin visto che gli avevano dedicato questo film è proprio a agi che nello sono riuscito a vederlo che mai come al solito morai vi lascio morai il video tra il sotto morai in descrizione con la trama e anche maria il cast di quelli che hanno mai gli attori magari che hanno partecipato questo a questo film che come come attore che proprio interpreta amareggi che questo tetsuigi tamayama e niente che magari gli attori magari tutti gli attori magari che hanno collaborato moribili lascio sotto marina in descrizione che che come film su che come film amare su su gigano e magari a me magari è piaciuto che che mi guardavo sempre il cartone di lupin quando tornavo quando andava qua a scuola che ho visto che gli avevano dedicato questo film è proprio oggi che non sono tipo recuperato nel guardarlo che come film come l'ho detto non è prima ho visto che magari su essendo mai un po avventurazione che sono i soliti ma che trovai che trovai che trovai che trovai che si vedevano mai anche in nel cartone morai e nei film che hanno provato a fare fino adesso magari di su solo pen e niente e quello magari quello che potevo mai dire su questo film su gigano e da parte mia quello che potevo dire ma l'ho già detto al massimo ci vediamo sempre sicuramente magari più avanti sul mio canale con i miei soliti video magari sui fumetti quelli da ridicola o sui manga o se riesco magari a guardare qualche altro magari su qualche altro film che si riesco a guardare magari degli altri e niente per adesso magari di saluto e ci vediamo sicuramente magari più avanti sul nel mio canale con i miei soliti con i miei soliti video e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao